Gli indicatori economici risultano sempre peggiori e le categorie produttive denunciano una situazione sociale sempre più drammatica. In un simile contesto il premier tecnico Mario Monti prosegue nella sua linea a vocazione internazionale e sovranazionale. Oggi è stato il turno dell'incontro con il presidente francese François Hollande accolto a Roma, Villa Madama. Occorre che via via si realizzino progressi di politica economica nei rispettivi paesi ci sia un riconoscimento da parte della stessa UE affinché non persistano dei grandi ostacoli, degli spread che sarebbero privi di riferimento all'andamento dell'economia, ha detto Monti. C'è una grande sinergia e unità di obiettivi nello spingere sulla crescita non inflazionistica o fondata su squilibri, ha dichiarato ancora aggiungendo che con il presidente Hollande abbiamo potuto constatare e spingere ancora più avanti l'identità di vedute su rapporti bilaterali e sul clima da ristabilire per rilanciare l'economia europea nella stabilità dell'eurozona, ha aggiunto il premier. Se vogliamo ripristinare la fiducia non dobbiamo avere dubbi sulla zona euro, affermato da parte sua Hollande. Abbiamo identificato tre tappe per l'eurozona, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, far applicare le decisioni del Consiglio UE, risolvere i problemi di Grecia e Spagna e realizzare l'unione bancaria. Tra i temi al centro dell'incontro il rafforzamento della governance europea, il rilancio della crescita e il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della BCE. Gli investitori credono nelle parole del presidente dell'Eurotower Mario Draghi che ieri al Parlamento europeo ha ribadito che è legittimo per l'istituto di Francoforte comprare bond con scadenze fino a tre anni, ma resta l'incertezza sulle strategie anticrisi che l'Europa metterà in campo e pesa anche il giudizio di Moody's che ha confermato il rating della AAA nell'Unione europea, ma ha abbassato a negativo l'outlook. Intanto, secondo il Financial Times che citta da TBC, i tassi di interesse che pagano in Italia e Spagna le piccole imprese sono saliti e sono nettamente più alti che in Germania. Ciò spiega perché i mercati in Europa in questo momento sono frammentati, rendendo difficile un'applicazione uniforme delle decisioni di politica monetaria. Monti ha subito ringraziato per l'assist fornitogli dal presidente della BCE Mario Draghi che ha definito legittimo l'acquisto dei titoli di Stato a tre anni, ma comunque vada, niente e nessuno può assolvere il presidente del Consiglio dalle sue gravi responsabilità per il disastro in cui versa l'economia del Paese. E' quanto afferma il vice segretario federale e deputato della Lega Nord Giacomo Stucchi, assodata l'incapacità del presidente del Consiglio e dei suoi ministri di salvare il Paese dalla crisi economica in calza all'esponente del carroccio, c'è da augurarsi che riesca almeno al presidente della BCE di calmare i mercati finanziari scongiurando il collasso delle economie dei paesi europei più a rischio. In ogni caso, conclude Stucchi, serve mandare a casa Monti e rimettere la politica e le sue scelte al centro della scena, magari riprendendo quel percorso riformatore interrotto proprio dal professore che vedeva nel federalismo fiscale uno dei punti cardine.